Buongiorno allora, oggi ci occupiamo, aggiungiamo un tassello al nostro puzzle e ci occupiamo di base di dati, database, anche per riuscire a fare qualche lavoretto, qualche esercizio un pochino più interessante, perché finora i programmi che siamo stati in grado di scrivere erano programmi un pochino smemorati, nel senso che una volta chiuso l'applicazione qualunque dato avessimo inserito veniva dimenticato perché eravamo solo in grado di memorizzarli all'interno di strutture dati, chiaramente che risiedevano nell'OIP di Java, che al termine dell'elaborazione viene distrutto. Quindi oggi iniziamo a aggiungere un livello di persistenza ai nostri dati, cioè fare in modo che i dati sopravvivano più a lungo rispetto all'esecuzione del programma, cioè chiudo il programma, lo riavvio domani, i miei dati sono ancora lì, li trovo e posso continuare a lavorarci. Questo tra l'altro ci permetterà anche, tra breve, di riuscire a lavorare con insiemi di dati che siano anche molto più grandi di quelli che possono essere gestiti in memoria dal programma. Noi non potremmo pensare di avere probabilmente una lista di un miliardo di elementi, mentre invece all'interno di una base di dati questo fa paura, ma non troppo in certo senso, a patto ovviamente di saperli digerire uno alla volta o pochi alla volta e non leggere tutti insieme in memoria, perché altrimenti i giga di RAM non vi bastano mai. Quindi ci serve innanzitutto partire, il solito percorso che facciamo è un'infarinatura di tecnologia, di comandi che ci servono e poi cercheremo di importare in qualche modo, fare nostra questa tecnologia all'interno dello schema di applicazione che usiamo, quindi darci un pattern di uso in cui inserire il database sia utile, non faccia troppo male, non distrugga troppo l'impostazione dell'applicazione, in certo senso, quindi trovare il luogo giusto in cui poterlo fare. È un percorso che inizieremo oggi, chiaramente porteremo avanti anche un altro paio di lezioni più avanti perché, diciamo così, gli aspetti sono diversi. Quindi partiamo dalle cose semplici e poi un pochino le dovremmo complicare per rendere un pochino più robuste. Allora parliamo di database, io do per scontato che voi sappiate cos'è una base dati relazionale, avete fatto il corso di base dati e per poter lavorare noi dovremo all'interno del nostro PC avere una base dati con cui lavorare. Quindi noi in particolare in questo corso lavoriamo o con un database di tipo open source che è essenzialmente MySQL, è lo stesso database MySQL, lo stesso database che usate anche per il corso di web, di programmazione web con l'Ioi. In realtà non usiamo proprio MySQL ma usiamo una sua variante, una sua derivazione che si chiama MariaDB. È un nome un po' strano che si chiama MariaDB.org che è questa foca strana, per cui se per poter lavorare essenzialmente il primo passo è quello di scaricare, poi sul sito del corso ci sono tutti i link delle varie versioni sia di MySQL che di MariaDB, quindi non stiamo fuori a vedere il dettaglio dei link, però per poter lavorare abbiamo bisogno di un server di database installato sulla nostra macchina. Questo server può essere, la scelta preferenziale è questa, installiamo e usiamo MariaDB. La seconda scelta potrebbe essere usare MySQL, scaricato direttamente dal sito mysql.com, attenzione che io ho scritto l'indirizzo come dev.mysql.com e non come www.mysql.com perché il sito principale cerca di vendervelo, cerca di portarvi all'acquisto, mentre dev.mysql.com è il sito per sviluppatore dove c'è anche la possibilità di scaricare le versioni gratuite, quelle che sono chiamate community. Essenzialmente sono due database molto simili, nel senso che MariaDB è stato creato a partire da MySQL, e la storia è un po' lunga, nel senso che MySQL è nato come prodotto open source sviluppato dalla comunità. A un certo punto, anni fa, la Sun Microsystems, che oggi non esiste più, che è un'azienda che ha sempre investito molto, tra l'altro quelli che hanno inventato Java per capirci, Sun Microsystems ha comprato, ha fatto proprio il progetto MySQL, l'ha finanziato, quindi continuava a pagare le persone che ci lavoravano sopra, ma continuava a rilasciarlo come prodotto open. A un certo punto Sun Microsystems è stata acquistata, voi lo sapete, probabilmente da Oracle Corporation. Oracle è un'azienda che ha sempre avuto un modello di business molto diverso da quello di Sun, che invece viveva vendendo tecnologia, delle bellissime overstation di calcolo, e poi creava un ecosistema di fatto open, regalando il software, investendo sul software, ma i soldi li faceva sull'hardware. Oracle è famosa per una cosa, il suo database, l'avete forse visto nel corso di base di dati, è stata la prima a avere database a livello enterprise e ancora oggi sanzialmente vive su questo tipo di mercato. Per cui ha fatto storcere un pochino il naso a chi sviluppava, a chi metteva del proprio tempo volontariamente nel progetto MySQL, lavorare perfettamente per un progetto open, che alla fine andava a finire di proprietà, ad essere di proprietà, del più grande prodotto commerciale di database. Allora uno si chiede, ma che interesse ha Oracle che vive vendendo database a mettere risorse finanziarie allo sviluppo di un suo concorrente gratuito, perché è più piccolo, meno scalabile, meno enterprise, però… e quindi molti si sono defilati dal progetto MySQL quando questo è stato comprato da Oracle, c'è stata in politica. E alcuni di quelli che sono defilati comprendevano il creatore iniziale, il capo progetto di MySQL che ha fondato questo MariaDB. Essendo un progetto open source ha potuto prendere tutti i sorgenti così come erano, fanno una copia dicendo adesso da qua in avanti continuiamo in questo modo. Quindi oggi all'interno di… ovviamente il giorno zero MariaDB e MySQL erano esattamente identici. Poi sono andati avanti per strade leggermente diverse, nel senso che su MySQL Oracle sta continuando a investire, a fare delle cose, su MariaDB c'è quest'altro gruppo di persone che sta andando avanti. Dal nostro punto di vista sono assolutamente equivalenti. Come installazione eccetera, MariaDB è un pochino più grezzo, MySQL ovviamente è un pochino più ingegnerizzato, ma a quanto ci interessa. Devo dire che se andiamo a prendere le versioni più recenti, MariaDB è più efficiente, un pochino più veloce. E tutte le distribuzioni diciamo così Linux o comunque di software open, alla fine si sono allineate tutte sull'uso di MariaDB, quindi anche noi. Vi dicevo, quindi questo è il motivo della nostra prima scelta, dicevo che abbiamo tre opzioni, MariaDB MySQL, oppure quello che userete nel corso di programmazione web è un pacchetto che si chiama XAMPP, non so se l'avevo necessitato, avete già cominciato a usarlo, che è un pacchetto che comprende al suo interno sia un database che un server web, che un linguaggio PHP eccetera eccetera, un po' di 4-5 tool che servono per sviluppare un sito web. Quindi se avete già per caso installato o installerete sul vostro PC XAMPP, come succede nei laboratori dell'app, in realtà MariaDB ce l'avete già, XAMPP dentro contiene una coppia di MariaDB, quindi non avete bisogno di installarlo a parte per quanto vostro, anche perché poi creerebbe problemi avere due database che cercano di girare entrambi sulla stessa porta. Quindi se avete già XAMPP, se volete usare quello, se vi basta quello, benissimo. Se no, se per qualche motivo non ce l'avete, oppure volete provare separatamente con un'installazione pura pulita di MariaDB, lo potete fare, l'importante è non attivarli mai entrambi contemporaneamente, perché sono due database che entrambi quando partono vogliono mangiare la porta 3306 di rete per poter fare il loro lavoro, per poter servire le query e quindi solo uno per volta può andare. Allora io per semplicità ho installato questo, ma all'app semplicemente dovrete prendere l'icona di XAMPP e fare attiva MySQL. A volte lo chiama MySQL, a volte MariaDB, neanche nella documentazione, a volte c'è un pochino di confusione o ambiguità tra i nomi, ma in realtà sono la stessa cosa. Dicevo, avendolo scaricato e installato, questo cosa fa? Dopo che l'avete installato non succede niente, nel senso che non vi fa vedere niente. Ho installato un database e questo database gira di nascosto il background come servizio. Allora il consiglio che vi do è di installarlo nell'installer, di farlo installare come servizio, ma in modo che non parta automaticamente, soprattutto su un portatile, perché rallenta l'avvio e ciuccia un po' di batteria in più, lo accendete solo quando vi serve. Allora questa è la finestra dei servizi di Windows, vedete che c'è un servizio che si chiama, il nome del servizio è MySQL e il commento è MariaDB Database Server. Quindi in questo caso è in avvio manuale, ma non sta girando, quindi vuol dire che quando mi serve lo devo avviare io. Il nome del servizio si chiama MySQL perché i programmi automatici, gli script, eccetera, continuano a funzionare con il nome vecchio MySQL, ma ovviamente continua, il database che viene installato è MariaDB non MySQL, per questo c'è sempre il nome un po'. Per poterci lavorare devo avviarlo, come si avvia normalmente un servizio di Windows. Quindi da questo momento in avanti sta girando, se poi sono stufo lo stoppo e lui si ferma e smette di funzionare. Quando un database gira non si vede niente, non succede niente, perché lui gira, è partito, è semplicemente in attesa che qualcuno gli mandi delle query. Quell'oggetto lì è nascosto in un angolo, se gli mando una query SQL lui mi restituisce con i risultati, basta, ma per il resto non c'è niente da vedere. Per vedere qualche cosa, quindi per poter interagire col database, possiamo usare tanti modi. Noi impareremo a farlo dal programma Java, quindi mandare una query verso il database dal nostro programmino Java. Però per provare, per testare le query, per creare tabelle, eccetera, avremo bisogno di qualche cosa un pochino interattivo e non scrivere un programma apposta per creare tabelle, eccetera. E qui ci sono tanti, diciamo così, front-end, interfacce grafiche, cioè programmi indipendenti che poi si collegano al server e mi permettono di vedere le tabelle, vedere le database, creare le tabelle nuove, eccetera, eccetera. Se voi scaricate MySQL, all'interno del pacchetto di MySQL c'è uno che si chiama Workbench, che ha anche quelle funzionalità di vedere, editare le tabelle, è anche molto completo come strumento, un po' pesante, devo dire, come tempo di avvio, soprattutto, come velocità di utilizzo. Però è fatto bene, è abbastanza completo. Ma ce ne sono molti altri, sul sito ci sono alcuni link. Io quello che uso e che ho installato anche in laboratorio è un prodottino molto leggero, però tutto sommato completo, che si chiama IDSQL. Quindi IDSQL è un programma separato, ve lo scaricate, ve lo installate e all'avvio lui non fa nulla prima di collegarsi a un database. Quindi primo passo, lui vi chiede, senti, ma dove gira il database con cui mi devo collegare? Allora tipicamente gira sulla macchina locale, su localhost. Quindi 127.001 è l'indirizzo di rete della macchina locale, potete scrivere così, potete scrivere localhost, è la stessa cosa. E poi vi chiede, a nessuno che porta gira, che normalmente è quella 3306, quella di default di MySQL, se non avete installazione multiple, se non avete fatto pasticci, quindi va già bene quella che vi da lui, e poi vi chiede ovviamente di autenticarvi. Allora, in SQL c'è un utente privilegiato che può fare tutto, e poi ci sono tanti utenti separati ai quali possiamo assegnare vari permessi. Immaginate una macchina condivisa con un database che funziona da back-end di varie applicazioni, ogni applicazione tendenzialmente avrà le sue credenziali e potrà toccare solamente le tabelle di sua competenza e non andare a danneggiare o rischiare di danneggiare i dati di altri programmi. Quindi si creano normalmente tanti utenti che corrispondono alle varie applicazioni e ciascuno con i privilegi di accesso alle tabelle che le interessano. Ovviamente tutte queste operazioni di creazione di utenti vanno fatte da parte di un utente privilegiato. Adesso noi, forse per rapidità, possiamo anche lavorare direttamente con le credenziali dell'utente privilegiato, anche se non è per nulla consigliato, perché dai un comando sbagliato, cancelli tutto, non hai protezione. Però per rapidità e sicuramente all'inizio dobbiamo lavorare con le credenziali dell'utente root. Quindi quando io apro, lui mi chiede lo username con cui ID SQL si collegherà a MariaDB e io do le credenziali dell'utente root e una password. Allora qual è la password? Se usate XAMPP non c'è la password, non non è definita, cioè all'installazione di XAMPP lei installa un utente root senza password, livello di protezione sottoterra, però tanto è un strumento solamente per sviluppare, per giocare, non è uno strumento vero di produzione con cui pubblicare i siti. Invece se installate MariaDB, durante la procedura di installazione a un certo punto vi chiede che password volete dare all'utente root. Io per massima sicurezza come password l'utente root ho messo root, perché se no me lo dimentico. E quindi a questo punto ciò che vedo è la finestra della propria di ID che essenzialmente è divisa in due parti, sulla sinistra abbiamo l'elenco dei dati presenti nel database, qui vedete tanti database che sono quelle che abbiamo usato l'anno scorso, nel corso, e quindi dato un determinato database questo può contenere varie tabelle. Ogni tabella, sulla destra vedete ovviamente il contenuto, ogni tabella contiene delle colonne e contiene questa struttura della tabella, qua a fianco posso andare a vedere i dati contenuti nella tabella, modificare i dati e eventualmente aggiungere, cancellare, modificare, oppure in questa query, questa linguetta query posso scrivere una query in SQL e col bottoncino, col triangolino run posso testare la query, vedere il risultato qua sotto e così via. Adesso ci torniamo tra un attimo quando faremo un esempio in pratica, però questo è lo strumento che useremo per creare il database, perché se dobbiamo, nella seconda ora lavoreremo sul libretto universitario, se dobbiamo memorizzare i dati, bisogna creare un database con una tabella che abbia i campi che ci servono, quindi dobbiamo farcela noi, la facciamo, qualcuno di voi magari è così innamorato delle SQL che vuole scriversi da solo create table a mano, lo fatelo pure, io no, e quindi lo faccio con questo intercosto frontend grafico. Una volta che sono create le tabelle, chiaramente poi dobbiamo scrivere le query per trovare l'elemento, aggiungerlo, eccetera, quindi prima di scriverlo in codice Java, lo sviluppiamo, lo debaghiamo, lo testiamo direttamente parlando col database in modo da separare i problemi, una volta che la query è a posto poi la metto dentro il programma Java, ma prima devo essere sicuro che sia giusta, che funzioni bene, eccetera. Quindi questi sono gli strumenti aggiuntivi con cui dovremmo lavorare, un backend, MySQL, MarioDB o XAMPP e un frontend, ad esempio ID oppure MySQL Workbench, oppure per chi usa un Mac c'è un altro che non mi ricordo come si chiama, ma c'è tutto sul sito. Ok, detto questo che è un ambiente in più, i tool in più, dobbiamo ovviamente entrare nel vivo e chiederci, ma da Java? perché non è che posso dire al mio utente installati, come si chiama, ID SQL e metti dentro i dati degli esami, vogliamo farlo direttamente dal nostro programma. Allora, per questo andiamo a conoscere questa libreria cosiddetta JDBC. Allora, cos'è JDBC? È una libreria standard di Java, del JDK di Java, esiste da sempre, sin dalle prime versioni, che ha lo scopo di fornire l'interfacciamento tra una qualunque applicazione Java e un database di tipo relazionale, un qualsiasi database di tipo relazionale. Quindi noi stiamo usando MySQL, ma non c'è solo MySQL. C'è Oracle, che abbiamo già citato, c'è Postgres SQL, che è un altro database molto usato anche in ambito open, e così come se ne sono decine d'altri. Quindi i progetti di Java a un certo punto hanno detto, noi dovremmo fornire un meccanismo generale affinché chi scrive programmi in Java possa connettersi a un database, purché sia un database relazionale, ossia database con cui interagisco in SQL, usando il linguaggio SQL. In modo che poi i programmi Java possano usare i dati, aggiungerli, cancellarli, ricercarli, eccetera, eccetera. Quindi usare il database come un'estensione della propria capacità di memorizzazione. E quindi nel nostro caso specifico, nella nostra applicazione JavaFX, imparerà a memorizzare i dati non solo all'interno delle sue strutture dati, ma anche all'interno di un database. In realtà poi, avendo questa possibilità in più, dovremmo sempre chiederci come la sfruttiamo. Lo metto solo qua come puntatore, poi ci ragioneremo meglio facendo esercizi complicati un po' più avanti. Un modo potrebbe essere, immaginiamo l'esempio del libretto, degli esami, che è un caso un po' particolare perché i dati sono pochi, per fortuna gli esami che dovete superare non sono 12.000. Una possibilità potrebbe essere, usiamo il database come punto in cui salvare i dati. Quindi quando il programma parte, legge dal database in memoria tutto, tutto ciò che gli serve, poi lavora in memoria con le liste, con i set, con le mappe, eccetera, e eventualmente le modifiche, prima che il programma chiuda, si chiuda, vengono salvati di nuovo sul database. Quindi ho operazioni di travaso massivo, diciamo così, in blocco dei dati, dal database al programma, che poi li elabora, ma dopo un caricamento iniziale il programma non lo vede più il database, non lo usa più. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è quella invece di dire, no, il programma non memorizza niente, quindi non carica l'elenco degli esami, ma tutte le volte che ha bisogno di un'informazione la va a chiedere al database. Quindi il programma è molto più snello, non carica su tutti i dati, ma al contrario comunica, interagisce continuamente col database, ogni volta che lo aggiungi un piccolo dato, legge un piccolo dato, fare una piccola ricerca, lo delego il database. Sono due approcci molto diversi, ovviamente il meglio sta nel mezzo, nel senso che bisogna saperli gestire entrambi, poi a seconda delle tipologie di applicazioni, di ciò che vogliamo fare andremo più da una parte più dall'altra. Dal punto di vista di ciò che vedremo oggi non ci cambia nulla, nel senso che è sempre il linguaggio di DBC, il problema è come lo usiamo noi, cioè che interazione c'è tra il modello e il database, perché finora il modello era, siamo convinti che la classe model era quella che doveva contenere i dati, adesso ci accorgiamo che non ha più questa esclusiva di essere l'unica che poteva contenere i dati, c'è anche il database, quindi vediamo un po' come gestircela. Però pensiamo sempre a queste due possibilità, o il database è un posto in cui ti sono i dati ma l'avvio del programma li leggo tutti e poi mi disinteresso, oppure qualche cosa con cui continuo a interagire, ovviamente dipende dal tipo di programma. Ok, allora da dove arriva questo DBC? DBC dicevamo è una package, c'è una libreria interna a Java, già preinstallata e le classi che ci interessano sono all'interno di due package, il package java.sql e il package javax.sql che contiene alcune classi che sono state aggiunte dalla versione 3 se non sbaglio di JDBC in avanti, adesso siamo la versione 4.2, che non ci stavano nel package, non era stata definita inizialmente nel package Java e loro l'hanno messi dentro Java X. Cosa fa questa libreria? Essenzialmente standardizza i meccanismi per collegarsi ai database e ci dà una sintassi più o meno uniforme con cui inviare le query. Perché c'è bisogno di questo? Ma perché i database sono uno diverso dall'altro, uno diverso dall'altro in due modi, uno nel protocollo di comunicazione, cioè se io ho MySQL lui si mette in ascolto sulla porta 3306 e aspetta che arrivino i comandi in un formato di rete che i progettisti di MySQL hanno inventato tanti anni fa, senza rendere conto a nessuno. Se prendessi un altro database farà cose analoghe su una porta diversa però con un protocollo di rete diverso, un meccanismo di autenticazione diverso e così via. Quindi a livello basso non c'è nessuno standard che ci dica come parlare con un determinato database, è il fornitore del database che decide come il suo specifico database si espone sulla rete, può essere contattato sulla rete. Quindi lì non senti nessuno standard tra i database, la libreria GDBC si mette sopra e dice vabbè io ti do un API Java uguale per tutti e poi ci penserò io libreria a tradurre nello formato specifico del database che stai utilizzando in questo momento. Primo livello. Secondo livello di differenze che GDBC cerca di mediare è quello su linguaggi SQL vero e proprio. Perché SQL è uno standard ma l'implementazione che di SQL fanno i vari database è sempre un pochino oscillante rispetto allo standard, quindi alcune cose vengono fatte in modo leggermente diverso, la gestione ad esempio delle date, dei blocchi binari di dati, ogni database la gestisce in un modo leggermente diverso. Allora GDBC cerca di uniformare un po' queste cose che dal punto di vista semantico sono equivalenti ma dal punto di vista tecnico sono leggermente diverse. C'è un terzo livello di difformità tra i vari database che invece GDBC non tocca perché non può farcela, che è quella dei dialetti delle SQL. Cioè ci sono proprio alcuni costrutti, alcune implementazioni delle SQL che sono diverse nei vari database. Perché magari per motivi storici i vari costruttori di database le avevano implementate in modi diversi. Tipicamente questo succede quando una determinata caratteristica non è ancora nello standard. Immaginate di avere una certa versione dello standard SQL. Poi un produttore di database 1 e un produttore di database 2, questi si fanno concorrenza. Come si fanno concorrenza? Cercando di rendere più efficiente ciò che c'è e di aggiungere cose nuove. Allora quando aggiungo una cosa nuova me la sto inventando e magari la sintassi per inventarla che usa il produttore 1 è diversa dalla sintassi con cui il produttore 2 ha inventato una funzionalità analoga e quindi hai due sintassi diverse per la stessa cosa o due dialetti diversi, due modi diversi di fare la stessa cosa. Poi a un certo punto probabilmente 2, 3, 7 anni dopo arriverà una nuova versione dello standard che dice come gestire questa cosa, come scrivere una SQL in modo uniforme. Ma nel frattempo i prodotti ci sono già, vengono gestiti. La sintassi vecchia ovviamente i vari prodotti devono continuare a supportarla perché comunque hanno fidelizzato un'utenza che usa quella sintassi e poi arrivano standard, ma loro superteranno lo standard e la parte vecchia eccetera eccetera. Allora ciò che succede è che i vari database hanno varie varianti dialetti del SQL. Su questo JDBC non ci può far nulla. Questo è quello che vuol dire dal nostro punto di vista che se facciamo attenzione il 99%, 95% di ciò che scriviamo è indipendente rispetto al database. Cioè noi lavoriamo con MySQL, ma se un domani dovessimo migrare la nostra applicazione su Oracle o su Postgres, probabilmente dovremmo modificare solamente una riga di comando, una riga di codice, che è quella che dice quale database usiamo. Però dobbiamo essere noi a fare attenzione a usare solamente le caratteristiche standard delle SQL. Se nelle nostre query usiamo qualche cosa che è specifico di un certo DB, allora stiamo perdendo la possibilità offerta di essere compatibili con vari tipi di backend diversi. Una certa nostra, bisogna fare attenzione, bisogna essere coscienti più che altro di quelle che sono le specificità. Ok. Detto questo, per ottenere questo livello, come è strutturata la libreria JDBC? Allora, noi abbiamo due punti che vogliamo collegare. Il punto più in alto è l'applicazione Java, qua su, e il punto più basso è il nostro database MySQL ad esempio. Qui non ci fa l'esempio di MySQL, ci fa l'esempio di Oracle e SQL Server che è quello della Microsoft, immaginatelo qua sotto. Abbiamo la libreria JDBC che è riassunta da questa JDBC API, cioè le chiamate java offerte da libreria JDBC. Quindi la nostra applicazione Java vedrà solamente questa API, queste funzioni, queste classi, 5-6 classi quelle che useremo fondamentalmente. E quindi chiameremo, non parleremo mai direttamente con il database, chiameremo queste API le quali a loro volta parleranno con il database. Però se questo JDBC è neutrale rispetto ai database e quindi può supportare 3, 4, 5, 100 tipi diversi, come fa? Internamente deve essere fatta di due parti. Una parte di alto livello, l'API, e una parte di basso livello che è chiamata driver. Driver è una classe specifica per ogni singolo database. Quindi ci sarà il driver JDBC di Oracle, ci sarà il driver JDBC di SQL Server, ci sarà il driver JDBC di MySQL o MariaDB, tanto è uguale, sono compatibili, ci sarà il driver JDBC di Postgres, eccetera, eccetera. Quindi ogni volta che noi diamo un comando, usiamo una classe JDBC, in realtà stiamo lavorando sulla parte alta della libreria che a un certo punto ribalterà questo comando sulla parte bassa della libreria, cioè il driver, il quale parlerà col database secondo gli standard di linguaggi e protocolli propri di quel database. E chi li fa questi driver? Normalmente chi li fa sono i costruttori del database stesso. C'è la Oracle che ha fatto MySQL, ti rende scaricabile il driver JDBC per MySQL. Allora quel che fa anche il database Oracle ti rende scaricabile il driver JDBC per il suo database Oracle, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo avere, abbiamo una libreria che è fatta in parte dalla libreria standard di Java, più un pezzettino che invece è proprietario, proprietario diciamo così, sviluppato di proprietà del singolo sviluppatore di database. E quindi vanno, mentre la parte alta è già installata, la parte bassa, cioè la dobbiamo installare noi perché siamo solo noi che sappiamo qual è il database con cui lavorare. In mezzo c'è una classe che si chiama driver manager che essenzialmente è la classe che permette di creare il driver e nascondere le differenze tra i vari driver. Fa parte in qualche modo dell'API, è quello che ci permette di selezionare quando il programma è partito con quale database usiamo e quindi quale driver deve essere utilizzato. Ma ci arriviamo per gradi a questo. In realtà JDBC è più articolato nel senso che di driver JDBC ce ne possono essere di vari tipi a seconda che siano scritti in Java, siano scritti in codice nativo, tutti in Java un po' sì, un po' no, un po' girano sul database, non ci interessa direi questa differenza. Noi lavoriamo essenzialmente con driver JDBC scritti in Java perché richiedono semplicemente di installare una libreria e non di installare altri servizi sulla macchina. Quindi in pratica noi abbiamo l'applicazione Java, il nostro programma, le classi JDBC che dobbiamo installare, quindi dobbiamo conoscere come fare installare, il database che abbiamo installato e poi questa classe driver manager che ci permette di agganciarsi al driver. Vediamo passo passo come fare. immaginiamo di avere un database già pronto e dal nostro programma vogliamo leggere dei dati. Ogni volta che vogliamo interagire col database dobbiamo seguire questi passi, sempre, tranne, sì, primi due in realtà si possono fare una volta per tutti ma gli altri vanno rifatti ogni volta. Quindi una serie di passaggi che ci permettono di arrivare al risultato, cioè arrivare al risultato della query. Allora, prendiamo una cosa a caso, prendiamo, che ne so, sto guardando una tabella qualunque che ho. Questo era un database che avevamo usato in un tema d'esame passato, in cui avevo caricato un po' di dati presso il meteo.it che rendeva scaricabili, abbiamo fatto un po' di giochini sulle precisioni meteo. Supponiamo di voler conoscere da questo, ad esempio, non voglio mettere di mezzo le date, quindi sto immaginando una query che non coinvolga le date su questo database. Ad esempio, quale città ci sono in questo database? Supponiamo di non saperlo, sono tre, Torino, Milano e Genova, e per ciascuno di questi quanti dati ho. Vabbè, allora, in SQL è facile, no? Dimmi quali città ci sono e per ciascuna quanti dati hai. E sarà un select. Dunque, devo selezionare la città e il conto della righe, la tabella che è situazione, group by, località. E questo è il risultato. Facile, no? Magari, count asterisco, non mi piace avere una colonna che si chiama account asterisco, gli chiamio nome, chiamo num, località, numero. Allora, io voglio nel mio programma fare un programmino Java che stampi sta roba qua. Ok? Andiamo, costruiamolo passo passo. Quindi io ciò che so è ho i dati e so scrivere la query. Mi manca solo tutto il resto. Allora, vediamo un passo alla volta. Primo passo è capire, ovviamente per collegarci al database abbiamo bisogno di un driver GDBC. Dove lo troviamo? Dove lo mettiamo? Come facciamo a usarlo? Allora, dove lo troviamo? Nel caso di MySQL o MariaDB, lo scarichiamo dal sito della Oracle. In realtà anche MariaDB offre un suo driver GDBC sul suo sito, ma in termini di funzionalità era abbastanza scarso l'ultima volta che l'avevo provato. Quindi poiché abbiamo una compatibilità, usiamo quello migliore che è quello della Oracle. Quindi dalle pagine di MySQL scarichiamo una cosa che si chiama connector barra J. Cioè all'interno dei download c'è tutta una parte di connettori. I connettori sono appunto delle librerie che permettono di accedere al database da parte di linguaggi diversi, perché chiaramente se scriviamo in Java ci serve una libreria, un driver del GDBC l'abbiamo chiamato. Se scriviamo in Python ci servirà una cosa diversa, se scriviamo in Java ci servirà una cosa diversa e così via. Allora, la MySQL, MySQL li chiama tutti connector. Connector barra il linguaggio. Connector barra J è quello che serve a noi. In particolare vedete che questo connector barra J è platform independent, cioè non c'è una versione diversa per Windows, Linux e Mac, perché è una classe Java, è scritto puramente in Java, quindi è indipendente dal sistema operativo. Se lo scaricate, scaricate uno zip che contiene dentro la classe che ci serve, un jar che ci serve. Fate solo attenzione che non fatevi spaventare da questa pagina, quando cliccate sul download dice devi registrarti eccetera eccetera. Poi piccolino c'è scritto no no ma va bene lo stesso, fammi fare il download, non mi interessa. Quindi il sito di MySQL è fatto così. C'erano queste pagine che vi fanno paura, ma poi sotto c'è scritto fammi fare il download e basta. E il download ti porta a uno zip che è questo, l'ho scaricato ieri, MySQL, trattino connector Java e poi un certo numero di versione, 5.1, 141, quello che è. Questo è uno zip, un archivio, all'interno del quale c'è una cartella, una del rettori sorgente, in cui se vogliamo possiamo vedere i sorgenti del driver JDBC e invece ciò che ci interessa di più che è il jar. MySQL con network Java numero di versione, trattino bing.jar. Questa è la libreria compilata binaria che ci serve. Quindi io ciò che ho fatto è di estrarre quel file direttamente fuori dallo zip, perché dentro lo zip non riusciamo a usarlo. Questo jar qui, 900k, è il driver JDBC per MySQL e MariaDB. È la libreria che contiene il driver. Quindi basta scaricare questo zip e copiarsi da qualche parte che non perdiamo, non ci dimentichiamo, questo jar. salviamolo da qualche parte. Questo al suo interno definisce una serie di classi tra cui la più importante, la prima da cui partire, quella di cui stiamo parlando, si chiama com.mySQL.jdbc.driver. Ovviamente. Facciamo attenzione che ci sono due livelli, dicevamo nel libreria JDBC, il livello standard dell'API che sono tutti nel package Java.SQL, tutte le classi, le interfacce sono in Java.SQL. Poi c'è il livello di implementazione del driver che sta in package specifici di ogni singolo fornitore, in questo caso è compute MySQL. Allora noi nel nostro programma non dobbiamo mai usare le classi al di fuori di quelle standard. Se questa classe c'è, ci serve, ma non la chiameremo mai per nome. Noi avremo bisogno di quella classe driver per collegarci al database, ma non faremo mai new di quella classe lì, non creeremo mai un oggetto di quella classe lì. Non direttamente quantomeno. Per chi non voglio scrivere il mio codice, nel momento in cui scrivessi new com.mySQL.jdbc.driver, sono fregato perché il mio programma può solo funzionare con MySQL. Io invece voglio che usando JDBC a livello più alto sia compatibile con vari database. Allora qui è un micro dilemma, ho bisogno di quella classe ma non voglio scriverla nel mio codice. Allora vedremo come, tra 8 secondi, come JDBC risolve questo micro dilemma. Quindi la classe ce l'abbiamo, dobbiamo renderla visibile al nostro programma e vogliamo, ma non vogliamo poi chiamarla per nome. Quindi vi dico come si chiama questa classe, ma in realtà non ci serve conoscere. Rendere visibile questa classe come si fa? La devo mettere in un luogo in cui il programma sia in grado di trovarla. Perché quando il nostro programma parte andrà a cercare questa classe e deve trovarla. Allora dov'è che la posso salvare affinché il programma la trovi? O la posso salvare all'interno della libreria, della cartella EXT? Quando voi installate Java su vostro computer, crea la cartella con jre, jdk, eccetera, eccetera, sotto c'è lib, una cartella lib che contiene libreria di sistema, sotto c'è una cartella quasi vuota che si chiama EXT. Se voi copiate un jar lì dentro, quello viene automaticamente visibile da tutti i programmi Java. Però va bene, se potete fare così una volta sola, quindi tutti i vostri programmi potranno usare MySQL perché avranno accesso alla classe driver. Il problema è che se poi vi spostate da un computer a un altro, voi non sapete su quell'altro computer cosa c'è nelle librerie. Quindi l'alternativa, quindi o installa a livello di sistema, l'alternativa è quella di installarla a livello di progetto. Quindi copiare il jar all'interno del progetto, quindi all'interno del mio progetto ci sarà una copia di quel jar e renderlo accessibile alle librerie. E magari faremo questa seconda scelta, così è più portabile il progetto, autocontenuto, contiene in pancia propria tutte le librerie di cui ha bisogno. quindi proviamo a partire, lasciamo perdere il JavaFX per il momento, facciamo solamente un progettino Java, linea di comando, semplice semplice, tanto non cambia nulla, per arrivare a fare la query che dicevamo prima, quindi lo chiamiamo db meteo, tanto per ricordarci cos'è. Per ora è vuota, ora è solamente una classica che fa quella query, impariamo qua dentro, poi dopo lo traduciamo all'interno di JavaFX. Allora il primo passo, dicevamo, è aggiungere a questo progetto quella libreria. Allora il modo più comodo è quello di crearsi una cartella, non un package, è semplicemente una cartella semplice, chiamiamo la lib, dentro Eclipse, dentro il progetto e dentro questa cartella lib ci andiamo a copiare il driver, attenzione il jar non lo zip, quindi basta trascinare il file semplicemente qua. E Cristo a questo punto ti dice, bene, vuoi aggiungere un file al progetto, vuoi che questo file venga copiato o semplicemente salvare un collegamento alla cartella dove era sul mio computer? No, voglio che sia copiato perché voglio che risieda fisicamente dentro il progetto. Ok. Quindi vedete che adesso dentro lib c'è questo connettore jar. Il fatto che sia qui però non lo rende automaticamente visibile al programma, perché io qua dentro posso salvare, copiare il file che voglio, semplicemente un file messo dentro il cartello di progetto. devo dire che questo file è in realtà una libreria che voglio aggiungere al percorso di ricerca delle classi di Java. La frase più lunga a dire che non a fare, perché se poi vado sulla libreria, tasto destro, build path, c'è il percorso che lui usa per costruire l'applicazione, aggiungi al build path. Quindi questo passo qua, prendo la libreria e l'aggiungo al percorso di ricerca, rende questa libreria visibile al progetto. Vedete che si è creata un'altra pseudo cartella che si chiama librerie collegate e c'è questo, c'è riferimento a questa. Quindi questo è il file vero e proprio, questa è l'informazione che Clipsa ha sul fatto che quella libreria deve essere inclusa nel percorso di ricerca delle classi. E quindi qua dentro vedo le classi che sono definite, vedete che è tutta roba sotto com.mysql, tutta roba che non siamo tenuti a conoscere nel dettaglio. Così come qua c'è una libreria di sistema, qui abbiamo aggiunto una libreria nostra, quindi per aggiungere le librerie nostre faremo sempre così, le copiamo dentro il progetto e poi le aggiungiamo al percorso di ricerca. A questo punto possiamo iniziare con i vari passi. Primo passo, siamo all'interno del nostro progetto Java, dentro il nostro programmino, vogliamo collegarci in database. Allora JDBC specifica che ogni database, diciamo così, è accessibile specificando un determinato indirizzo sotto forma di URL, una stringa. Così come le pagine web sono accessibili con HTTP due punti qualcosa, anche i servizi JDBC sono accessibili attraverso una stringa di connessione di quel genere. Quindi per poter parlare con il nostro database avremo bisogno della stringa di connessione. La stringa di connessione, il formato della stringa di connessione dipende dai singoli database e quindi dovremo creare una stringa di connessione che piaccia a MySQL. Quando prima vi ho detto se devo cambiare database e faccio le cose per bene mi basta cambiare una riga del programma, ecco questa è la riga che dobbiamo cambiare, cioè la stringa di connessione, che contiene dentro tutte le informazioni per poter personalizzare il driver e l'applicazione a uno specifico database. Quindi in particolare nel caso di MySQL la stringa di connessione ha questo formato, JDBC c'è sempre ovviamente, indica che cos'è questa stringa. Due punti, MySQL ovviamente questa parte cambia a seconda del database. nel caso di MySQL si chiama MySQL, nel caso di Oracle si chiama OC8, OC9 eccetera eccetera. Ogni database vendor avrà un suo prefisso qua dentro specifico e da quel momento in avanti il resto della sintassi è proprietaria, cioè veramente ogni database ha sintassi anche molto diverse. Nel caso di MySQL è facile, nel senso che JDBC due punti MySQL, due punti barra barra, il nome dell'host, cioè dove sta girando il programma, il server, il database, in questo caso localhost per noi sarà, eventualmente la porta se non è standard, ma noi abbiamo la porta standard 3.306, slash nome del database all'interno del quale vogliamo lavorare. cioè se sulla stessa macchina ci sono tanti database definiti, in SQL li chiamano database o schema, c'è tanti schemi definiti, c'è ciascuno dei quali ha varie tabelle, nel nostro caso sarà il database meteo che contiene solo una tabella, in questo caso non va bene. quindi JDBC due punti MySQL, barra barra barra, due punti barra barra, localhost barra meteo, scriveremo. E poi una serie di altri parametri opzionali che possono modificare le modalità di connessione. Allora tra queste opzioni aggiuntive, se le volete vedere tutte sono elencate in questa pagina che è elencata qua sotto, due sono ovviamente quelle fondamentali che sono lo username e la password con cui collegarsi. Quindi si scriverà punto derogativo user uguale username e commerciale, la commerciale separa le varie opzioni una dall'altra, punto derogativo introduce le opzioni e la commerciale separa una dall'altra, a me la sintassi delle urle questa, non c'è nulla di particolare. User uguale un utente, pastor uguale la mia password. Allora io posso costruire una stringa fatta così. Allora facciamolo, ci creiamo un nostro programmino, una nostra classe main, prova db, mettiamoci un main dentro e dentro questo main definiamo una stringa di connessione, jdbc url, come? Abbiamo detto jdbc. due punti, mysql, due punti, barra barra, localhost, slash nome del database, meteo, punto derogativo parametri, user, user username, non ricordo mai, user uguale root e commerciale password uguale root. Allora ho detto che l'avevo salvatta così, punto e virgola. Quindi devo comporre questa stringa che dipende essenzialmente dal nome del database, dal nome utente che ha accesso quel database, un utente SQL e dalla password di questa. Nel caso in cui aveste installato XAMPP che non richiede la password non mettete questa parte qua, semplicemente user uguale root e basta. MySQL non è molto chiaro negli errori di connessione, per cui se un utente non ha password e voi gliela fornite vuota si arrabbia, se invece ha una password vuota e voi non gliela fornite si arrabbia lo stesso, quindi non è la stessa cosa mettere una password ruota o non metterla del tutto. Però con due tentativi si riesce. Una volta che ho definito questa che è una stringa, ovviamente non ho ancora fatto niente, devo finalmente aprire una connessione. Una connessione che cos'è? È un oggetto, si chiama connection, che è di fatto il collegamento tra il mio programma e il database. Immaginateva come un tunnel, un tubo attraverso il quale passano tutte le comunicazioni tra il mio programma e il database. Quindi tutte le operazioni sul database le farò attraverso l'oggetto connection che devo ottenere. Java.sql.connection. E chi è che mi dà la connessione, l'oggetto connection? L'oggetto connection me lo può creare solamente il driver, driver che tra l'altro non conosco ancora. Ma tutto è nascosto dietro questa classe driver manager. La classe driver manager analizza la url, JDBC url, va a vedere cosa c'è scritto, vede che a un certo punto c'è scritto MySQL e allora dice bene, questo programma vuole accedere a un database di tipo MySQL. c'è una classe che implementa il driver JDBC per il database MySQL, va a vedere tra tutte le classi del programma e ne trova una e trova il driver nostro, sappiamo che c'è perché il jar l'abbiamo messo. E quindi la classe driver manager creerà, istanziarà a lei questa classe il driver vero proprio, il classe com.mySQL.gdbc.driver. Non devo crearlo io il driver, lo crea di nascosto la classe driver manager. E a questo punto la classe driver manager chiederà a questo driver, che io non vedrò mai, non toccherò mai direttamente, di aprire una connessione verso il database, perché ovviamente è solo il driver che sa come si fa aprire una connessione, perché dipende dal protocollo specifico di quel database. E mi restituisce un oggetto di tipo connection. Quindi tutta la magia avviene in questa riga qua, in cui io apro una nuova connection, chiedendo alla classe driver manager di darmi una nuova connessione, passandogli la stringa jdbc.url. Allora, driver manager è una classe java.sql.driver manager. Più avanti troveremo un metodo più furbo, lo dice anche la documentazione, ma se potete usare data source che è più furbo di driver manager. Ci arriviamo, ma per il momento facciamo la versione semplice. Quindi questa classe driver manager ha un metodo statico getConnection, quindi non ho bisogno di fare nessun new di questa classe, è un metodo statico, a cui gli passa una stringa e mi restituisce un oggetto di tipo connessione. Mi restituisce questo getConnection, restituisce un oggetto connection. Se è riuscito ovviamente a aprire la connessione. Se non riesce a aprire la connessione, mi sparerà un'eccezione, perché tutte le volte che accedo all'esterno, mi collego a un server esterno, ci sono più cose che possono andare storte che non quelle che possono andare dritte. La rete è lenta, non si collega, la password è sbagliata, il server non ho avviato, dite voi la vostra. Quindi ogni operazione, abituiamoci che ogni operazione che faremo col database è a rischio di eccezione, è a rischio del fatto che non funzioni, quindi dovremmo decidere come gestirlo. E questo restituisce un oggetto connection. Occhio, l'oggetto connection ne abbiamo due, uno che si chiama java.sql.connection, l'altro che si chiama com.mysql.jdbc.connection. C'è sempre questo doppio livello. C'è la classe vera, la connection vera, quella di jdbc, quella di oracle, quella di mysql che fa il lavoro e poi c'è la versione di alto livello, quella neutra, quella di libreria standard jdbc. Ovviamente noi dobbiamo sempre e solamente usare quelle di java.sql. Quindi allenate i vostri occhi e non vedere mai dove c'è scritto mysql, quello non c'è, non ci interessa. Quindi dobbiamo fare attenzione però quando importate le classi, importare quelle giuste. Sempre quella java.sql. Tra l'altro java.sql.connection è un'interfaccia. Vedete che c'è una il vicino, non una c nella documentazione. L'interfaccia non è una classe. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un oggetto di tipo com.mysql.jdbc.connection senza mai nominare quell'oggetto, senza mai nominare il packaging in cui è contenuto. E lo usiamo noi in quanto classe, ma lo usiamo conoscendo l'interfaccia a cui questo oggetto fa riferimento, che viene implementato da questo oggetto. Siamo riusciti a creare un oggetto senza conoscerlo e lo sappiamo usare perché semplicemente quell'oggetto implementa l'interfaccia che ci serve. All'inizio è un po' strano. Tu crei degli oggetti senza far new? No. Infatti creo degli oggetti senza far new. Uso un altro meccanismo, un pattern che si chiama factory. Factory come fabbrica. Il factory pattern. Cioè ho una classe, in questo caso il driver manager funziona un po' come factory di connection. Costruisce connessioni per me. Dico costruisce una connessione. Va bene. Lei, driver manager, sa quale connessione costruisce. Lei lo sa. Anzi, in realtà il driver che sta sotto lo sa. E mi restituisce una classe già fatta, già pronta. Io non ho bisogno di sapere qual è quella classe, ho bisogno semplicemente di sapere qual è l'interfaccia implementata da quella classe e poi ci potrò lavorare. Noi avremmo potuto applicare una cosa di questo genere quando abbiamo fatto l'interfaccia con le liste, fai un RList o fai una LinkedList. Tutto il programma poteva lavorare semplicemente con l'interfaccia list e poi aveva una classe unica di factory che creava la lista e dentro quella classe solo lei sapeva e decideva quale tipo di struttura dati implementare, purché ovviamente rispettarsi con l'interfaccia. Allora questo è un pattern che si usa molto. New è stupido, perché quando io scrivo new devo sapere esattamente che oggetto creare. In contesti un pochino più complicati, a volte non lo so quale oggetto creare, è qualcun altro che lo sa, che ha informazioni che io non ho o che non voglio mettere nel mio codice. Allora delego la creazione degli oggetti ad altri oggetti. JDBC funziona tutto così. Perché? Perché le API sono di alto livello e se andate a vedere le API, non ho detto prima per non spaventarvi, ma è fatta quasi solo di interfaccia, non ci sono classi nell'API standard. Le classi sono nascoste dentro l'implementazione, dentro i driver. Quindi noi non faremo mai una new. Useremo sempre questo meccanismo di un metodo di JDBC che mi restituisce un altro oggetto già creato. Quale sia la classe di quell'oggetto, non lo so, non mi interessa, mi interessa che implementi l'interfaccia che mi serve per poterci lavorare. Cosa ancora a questa riga che non gli piace, dopo tutta questa papardella? Che questa spara un'eccezione. Quindi bisogna sempre mettere un bel blocco tra i catch e poi dopo, adesso è un programmino di prova, quindi non ci preoccupiamo ancora troppo di cosa scrivere qua sotto. però questa getConnection potrà fallire e quindi devo dire cosa fare quando fallisce. Ok? Mi ho parlato un'ora per scrivere una riga. A questo punto con la connessione, l'oggetto run, non ha fatto niente, buon segno, nel senso che non ha fatto eccezioni. Per dirvelo, se io per caso sbagliassi la password, dovrebbe arrabbiarsi, mi sparo un'eccezione, java.sql.sql.exception, access denied for user root at localhost, using password.js. Cioè mi hai dato una password ma non era giusta. Quindi vuol dire che ha fatto qualcosa, semplicemente prima non aveva stampato nulla perché è andato tutto bene. Ok, abbiamo fatto il primo passo, il passo 1, anzi il passo 2 era già questo. Quindi cosa abbiamo fatto? Se lo vediamo a livello di classi, questi sono le classi, anzi le API con cui avremo che fare. Abbiamo chiesto al driver manager get connection. Qui l'applicazione mia è questa, questo è il mio programma. Abbiamo fatto una get connection sul driver manager. Il driver manager per poter eseguire questo comando ha dovuto prima caricare il driver specifico con .mysql.gdbc.driver di nascosto. Questo driver che sa lui come creare le connessioni ha creato un oggetto connection com.mysql.gdbc.connection e l'ha restituito all'applicazione, in realtà l'ha restituito al driver manager il quale l'ha restituito all'applicazione. Quindi noi stiamo lavorando con questo oggetto qua, connection, senza saperlo, qua dentro l'applicazione. Questa è la fase di connessione. Poi abbiamo la query da fare. Per fare la query usiamo un oggetto che si chiama statement, java.sql.statement. Ovviamente non facciamo new, perché l'oggetto vero statement non sarà java.sql, perché java.sql.statement è un'interfaccia. E usiamo lo stesso metodo. Chiediamo alla connessione di darci un oggetto statement, perché vogliamo fare una query. Quindi anche qua, mentre il driver manager è una factory di connessioni, una fabbrica di connessioni, la connessione a sua volta è una fabbrica di statement. E quindi crea un oggetto di tipo statement. In realtà ci sono due tipi di oggetti, uno si chiama statement e l'altro si chiama prepare statement. Noi useremo quasi sempre il secondo, in particolare quando la query che dobbiamo fare ha dei parametri. Se la string è fissa, va bene, sono equivalenti. Se abbiamo dei parametri useremo il prepare statement. Ma la nostra query di esempio però non ha dei parametri, quindi iniziamo solamente con la versione semplice, statement. Quindi punto e virgola. Il nuovo statement è un java.sql.statement. Se importate la roba sbagliata poi vi vengono fuori 12.000 errori e non capiamo perché. Quindi voglio fare una query, chiedo la connessione, dammi cos'è uno statement. Se io mi immagino la connessione come un tubo, mi immagino uno statement come una navetta che va avanti e indietro su questo tubo. Uno shuttle che posso preparare. Quindi il tubo mi fornisce uno shuttle, io dentro ci metto un po' con la posta pneumatica che c'è ancora in alcuni supermercati. Mi dà il tubo, il sistema di comunicazione, mi dà una scatolina dentro la quale io ci scriverò lo statement e gli dico vai, lui va dall'altra parte, va al database, viene eseguito, torna indietro i risultati. Lo statement è ciò che va avanti e indietro. però quello è solamente il contenitore. Dentro il contenitore ci devo mettere la query. Quindi innanzitutto devo creare dentro il mio programma una stringa che rappresenti la query che voglio eseguire e poi chiedere allo statement di eseguire questa query. quindi le SQL che voglio eseguire che cos'è? Eh ce l'ho di là. Era questo. Quindi questa cosa qua devo mettere dentro una stringa. Poi andando a capo poi c'è il solito dieci minuti di sistemazione. Più indenta, metti le virgolette, più le virgolette. O la metto tutta su una riga oppure per rendere un minimo leggibile devo fare un po' di sistemazione della sintassi in java. Occhio che di questo copia e incolla e di queste virgolette, qui ho concatenato una stringa su tre righe, il carattere più importante di tutti è questo. Lo spazio alla fine di ogni riga. Perché se voi non fate attenzione, andate a distinto, fate così. un pezzo di stringa più a capo un'altra più a capo un'altra. Ma poi quando concateno queste stringhe e questa m di num e questa f di from si trovano attaccate e quindi ho creato un errore di sintassi. Non riconosce la parolina from. E allora dice ma la mochile è giusta perché mi dice che è errata? Eh perché non è giusta. E quindi ricordiamoci sempre quando concateniamo di aggiungere uno spazio alla fine di ogni riga. Potete immaginare il piacere di fare questa operazione quando avete delle query lunghe, poi magari dovete modificarla, aggiungerla, sempre sistemare le virgolette. È uno dei tanti piaceri del JDBC. Ok, so qual è la query che devo fare, mi alzardo a dire, so che è giusta perché l'ho già provata dall'altra parte in modo interattivo, allora a questo punto facciamola eseguire. Statement.executeQuery SQL. Questo è il comando in cui chiedo allo statement la navetta, dentro quale ci metto questa query, di eseguirla. Quindi mandalo al database e chiedo al database di eseguire questo comando. Quando il database esegui questo comando la navetta torna indietro e contiene il risultato. Un oggetto che si chiama result set, che viene restituito, vedete che la classe executeQuery restituisce un oggetto di tipo result set. vi lascio indovinare il result set dove è definito dentro java.sql. Chiede un'interfaccia, tanto per cambiare, se ne è tutto così qua. Quindi finalmente abbiamo, allora abbiamo non lo so, nel senso che questo executeQuery può sparare 100 errori diversi. Nel frattempo si è persa la connessione, oppure lo statement era sbagliato, la sintassi era sbagliata, o non ci sono dati. Se non capitano eccezioni, dentro questo oggetto result set c'è il risultato della query, cioè i dati che mi servono, quello che prima avevamo visto qui in questa tabellina. Dobbiamo leggerli. Quindi dobbiamo estrarre dal result set i dati che ci interessano. Questo è il caso semplice, quindi cosa abbiamo fatto? La nostra applicazione adesso ha chiesto alla connessione get statement, dammi un oggetto statement, poi ha chiesto all'oggetto statement, fammi una query e dammi un result set. Lo statement a questo punto ha restituito un result set all'applicazione. Adesso l'applicazione può lavorare con result set per ottenere i dati veri e propri. Questo è il statement semplice, più avanti impareremo un prepare statement quando abbiamo dei parametri da indicare. Questo è il caso semplice in cui noi dobbiamo fare un'interrogazione, execute query, interrogazione e corrisponde ai comandi SQL che iniziano con select, interrogare, chiedere dati. Però nel SQL non c'è solo select, c'è select, insert, update e delete. Dimentichiamo delete, non si usa mai delete, non si cancellano mai i dati, quindi non c'è delete. Select, insert update. Se dovessi fare un insert e un update eseguo una query diversa, un metodo diverso che non si chiama execute query, ma execute update. Quindi il metodo statement.executeupdate va bene se la string SQL inizia col comando insert oppure update. E vedete che restituisce un intero e non un oggetto result set. Un result set è l'insieme dei risultati che c'è solamente se la query è una query di interrogazione, c'è una select. La select ha dei risultati, una insert non ha dei risultati, un update neppure. Semplicemente restituiscono un numero intero che dice il numero di righe che sono state modificate. Quindi se voglio inserire un dato farò un execute update di una insert e mi aspetto che quello restituisca uno, cioè che abbia aggiunto effettivamente una riga. E quindi posso sapere se lo restituisce uno o zero, posso capire se la insert è andata a buon fine oppure no. In realtà c'è anche un altro metodo execute che non sa niente di niente per eseguire comandi SQL generici, che non so, un alter table, come se lo facessi tutti i giorni, che non ricadono in queste quattro casistiche, insert update, select, delete niente. Quindi vabbè, ma il 90% delle volte ovviamente faremo delle interrogazioni, a volte faremo insert per raggiungere il dato. Ok. Una parentesi sui parametri. Cosa succederebbe se, in questo caso la nostra stringa è fissa, no? Se io invece volessi modificarla facendo in modo che mi restituisca il conteggio solamente, che ne so, dei dati dell'anno, qui ho varie date, dell'anno 2014 per dire, no? Più avanti ci sono dei dati del 2014. Però potrei mettere where year the date uguale a 2014, ma questo 2014 non voglio codificare dentro il codice, magari è l'utente che l'ha selezionato da una tendina per dire che anno vuoi, che anno ti interessa. Quindi ho un parametro che arriva dall'utente. Quindi dovrei metterci qualcosa qui, tipo where, dicevamo year di come si chiama data, uguale a 2014. Ma lasciamo perdere la sintassi a sequelle. Quello su cui mi voglio concentrare è questo valore. Allora come faccio a costruire una query che contenga lì dentro un numero o una stringa, forse una stringa andrebbe tra singoli apici, che era scelto l'utente. Ecco, se una stringa era scelto l'utente, io nel mio programma ce la avrò dentro una variabile. Allora dovrò costruire un comando SQL con un template fisso e a un certo punto lì dentro ci inietto il valore di una variabile. Una cosa così. Select qualcosa, from where, una certa valore uguale e poi esco dalla stringa, ci concateno il valore di una variabile. Quindi se era già brutto scrivere una stringa che va a capo, immaginate una stringa che va a capo dove ci sono dei pezzi fissi e dei pezzi che arrivano dalle variabili. Con una danza di virgolette da capogiro perché qui ho questo apice blu, qui l'ho fatto in blu, si vede meglio, ma è l'aperta virgolette dell'SQL. Poi questo è il chiuso virgolette della stringa Java, è la variabile, poi aperte virgolette di nuovo la stringa Java, chiuso virgolette dell'SQL e chiuso virgolette di Java. è così. Quindi sta cosa qua fa schifo. Noi non la faremo mai, impareremo a usare il prepare statement che lo fa per noi. Quando vedremo il prepare statement tra un attimo capiremo che non è solo una questione di comodità, di chiarezza del codice, e già per quello ci basterebbe, ma anche un problema di sicurezza enorme. Quindi mai concatenare dati utenti dentro le stringhe. Chi lo fa viene appeso lì dentro, lì in cortile, la testa in giù. Ma ci arriviamo dopo, per ora non abbiamo ancora questo problema, sappiamo solo che farlo con la concatenazione di stringhe puzza e fa star male. Ok, invece torniamo a noi. Abbiamo fatto la query e vogliamo vedere i dati. Allora, chi ha pensato JD JDBC si è detto, ma non posso pensare che questa istruzione restituisca i risultati veri e propri, perché magari questa query mi tira fuori 120.000 righe di 80 colonne, è un tabellone, un database complicatissimo e quindi non è pensabile di trasferire lungo questo tubo, la connessione, dentro lo statement, quantità enorme di dati, tutte di botto, tutte all'inizio, perché poi magari non servono tutti, o se servono non servono tutti subito. Se io dovessi trasferire i dati tutti subito, la query avrebbe un tempo di attesa, aspetto che arrivino tutti i dati e poi il programma può andare avanti, però si rimanerebbe alloccato per un momento. Tenete presente che magari la query ci mette 10-15.000 secondi per eseguirla e poi magari 300 millisecondi o non so, 100-150 millisecondi per trasferire i dati lungo un socket, perché lì chiaramente deve spostarli lungo la rete, se siamo su localhost è veloce, ma se fossimo su una rete locale ci mette più tempo. Allora i progettisti di JDBC cosa hanno pensato? Hanno pensato, va bene, il result set non è il vero insieme di risultati, è semplicemente un cursore che ti permette di navigare avanti e indietro all'interno dell'insieme di risultati. Quindi noi i risultati non li abbiamo mai tutti insieme, li possiamo vedere uno alla volta e il result set mi permette di poterli vedere uno alla volta. Come? Allora un result set in ogni momento, immaginatevi la tabella dei risultati, la nostra piccolina tra righe, il result set in ogni momento è posizionato su una ben specifica riga e io posso fare due core su questa riga, o cambiarla, quindi spostarmi sulla riga prima, sulla riga dopo, quindi spostare il cursore avanti e indietro, quindi il result set ha una serie di metodi per spostare il cursore, vai all'inizio, vai alla fine, torna indietro, vai avanti, eccetera, eccetera, è una sorta di iteratore. Un gruppo di metodi per spostare il cursore, un altro gruppo di metodi per leggere il contenuto delle singole celle. Quindi dimmi cosa c'è scritto nella prima casella, di che cosa? Della riga su cui è posizionato il cursore adesso, dimmi cosa c'è scritto nella seconda casella e così via. E questi sono i metodi di tipo get e c'è una famiglia di questi metodi a seconda che il numero da leggere sia un intero, sia una stringa, sia una data, eccetera, eccetera. Quindi ho dei metodi get che sono personalizzati in funzione del tipo di dato che c'è dentro quella cella, perché poi io lo leggo come oggetto Java, quindi devo sapere di che tipo è questo oggetto. Quindi, come funziona il cursore? Allora, il cursore, quando io eseguo la statement, viene posizionato, sarebbe da dire sulla prima riga, no, viene posizionato, non ridete questa frase, sulla riga prima della prima. Non esiste, lo so che non esiste. Immaginiamo che prima della prima riga, non c'è niente, il cursore venga posizionato prima della prima riga. E quindi, per poter leggere i dati della prima riga, devo innanzitutto far avanzare il cursore di almeno una posizione, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta. Quindi in realtà il cursore può stare su una qualunque delle righe di risultato, oppure su una riga fittizia prima della prima riga, oppure su una riga fittizia dopo l'ultima riga. Voi magari mi chiedete che cosa si sono bevuti quando si sono inventati questa cosa, no? In realtà ha perfettamente senso, ha senso, perché quando voi fate una query, non potete mai sapere se questa query avrà dei risultati o no. Magari il risultato ha zero righe. Allora, se io ti dicessi che il cursore viene posizionato inizialmente sulla prima riga e quello dal set ha zero righe, non funziona, non posso dirtelo. Dovrei generare un'eccezione in quel caso, c'è con le posizioni sulla prima riga, la prima riga non c'è, ma perché dovrei generare un'eccezione per una situazione che è perfettamente normale, il fatto che una query non abbia risultati? Allora, per poter gestire in modo normale, senza eccezioni, anche query, cui risultato avesse zero righe, ci sono inventati questa posizione iniziale del cursore prima della prima riga. Vabbè, capito, non ci spaventiamo più. E quindi per andare da una riga successiva possiamo chiamare un metodo next, che mi sposta il cursore ogni volta in giù di una posizione. Quindi dovrò fare in modo di chiamarlo almeno una volta prima di leggere i dati. A questo livello di codice è molto semplice, nel senso che basterà scrivere qualcosa di questo tipo. While result.next. Essendo un ciclo while, la condizione viene valutata prima di entrare nel corpo. Quindi prima di eseguire le istruzioni che sto per scrivere qua alla riga 25, next viene chiamato almeno una volta. E quindi si sposterà dalla riga prima della prima alla prima riga vera. Quindi quando eseguo il corpo di questo ciclo while, sarò sulla prima riga del result set, se c'è. Se result set ha almeno una riga. Se non ci fosse nulla, se result set fosse vuoto, quella chiamata next passa direttamente dalla riga prima della prima alla riga dopo l'ultima, senza posarsi su nessuna riga intermedia perché non ci sono. E in più il metodo next restituisce falso. Quando una chiamata next restituisce falso, il cursore è posizionato dopo l'ultima riga. Allora in quel caso, avessimo zero risultati, next ha posizionato il cursore fuori dalla tabella, perché in realtà era vuota, però poiché restituisce falso, il ciclo while non viene eseguito. Quindi funziona bene, sia che ci siano dati, sia che non ci siano. Se ce ne sono dati, se ci sono dei dati, ogni volta che faccio il ciclo while mi dà una riga successiva, fino a quando non ho già consumato l'ultima, il next va dopo l'ultima, restituisce falso ed esco dal ciclo. Quindi il meccanismo è un po' strano, ma alla fine a livello di codice è semplicissimo. E quando sono sulla singola riga che cosa posso fare? Posso estrarre i dati. Quali erano i dati? La località e il numero. Quindi posso estrarre la località string chiedendo a result set sulla riga corrente sotto forma di stringa nella colonna che si chiama località. Cosa c'è? E sulla riga corrente, correntemente selezionata dal cursore, del result set, leggendolo come intero nella colonna che si chiama num, che cosa c'è? Quindi posso andare a estrarre i singoli campi di ogni singola casella. La riga l'ho già scelta, adesso vado a scegliere le colonne. Le colonne le chiamo per nome, mettendo come stringa il nome della colonna, quindi ho chiamato località perché qui c'è scritto località. Ho chiamato num perché qui c'è scritto num. potrei anche chiamarle 1 e 2 le colonne, però sarebbe molto poco leggibile capire, ma qual è la colonna 17? Se metto il nome è un pochino più facile capite cosa succede. Dico, quindi scelgo la colonna, dico qual è il tipo di dato che voglio estrarre da quella colonna, la prima era una stringa e la seconda un intero, ovviamente è compatibile col tipo di dato sottostante che c'è nel database sotto. Se facessi un get in sulla località, una bella eccezione lì che ci aspetta. E poi a questo punto ho un oggetto Java che posso gestire come voglio. Ad esempio stampare. Ad esempio diciamo località 100s, numero 100d barra n, virgola, quindi per ogni riga del set che viene trovata estrarrà da quella riga i valori che sono presenti nelle due colonne e ristampa semplicemente questo programmino ad esempio. Prima di provarlo, prima di eseguirlo, cosa che potrei fare subito ma poi dopo ci emozioniamo troppo e ci dimentichiamo quello che sto per dire. Poi qua ci torno. L'ultimo passo che anche non è il più importante ma è altrettanto importante quanto il primo, chiudere la connessione. Perché un database ha un numero massimo di connessioni attive, oltre le quali non accetta più comandi, per proteggersi chiaramente. Allora se io lancio un programma e non chiudo la connessione, oppure il programma farà tante interrogazioni, ogni volta apre una connessione nuova e non la chiude mai, dopo un attimo il programma smette di funzionare, il database smette di accettare connessioni e deve aspettare che le connessioni vanno in time out 20 minuti giù di lì. Il database libera risorse. Java non è un problema perché poi il programma termina oppure il Gerber Collection riusa gli oggetti. Il problema è il database che ha delle connessioni aperte e non sa che dall'altra parte non c'è più il programma Java che li sta usando. Quindi ricordiamocelo sempre, anzi l'abitudine che dobbiamo prendere nel momento in cui scriviamo getConnection, subito scrivere connection.close. Ok, proviamo a eseguirlo e mi stampa i dati che abbiamo appena letto. Quindi il grosso del lavoro qual è? A parte le istruzioni che sono sempre le stesse. Il grosso del lavoro è scrivere la stringa giusta, la sequela, l'interrogazione e maneggiare correttamente i dati che vengono restituiti. Quindi capire cosa devo farci, cosa devo stare eccetera eccetera. Il resto è un template che useremo sempre uguale. Apri la connessione, credo lo statement, fai l'execute query, fai la close, sono sempre le stesse. Di quei sette passi gli unici in cui ci sono intelligenza sono qua e poi in questo caso qua, nel senso che stampo e basta, ma normalmente quei dati una volta che li ho letti me ne farò qualcosa. Quindi la parte è più specifica. E questi ultimi due cenni, quindi il grosso del lavoro lo faremo sul result set ovviamente. Principalmente useremo il metodo next per navigare il result set, sappiate che ci sono anche altri metodi, per casi particolari in cui posso interrogare il cursore chiedendogli di sei all'inizio, sei alla fine, sei prima dell'inizio, sei dopo la fine, oppure spostarmi in posizioni note, vai avanti di due righe, vai alla riga 27, vai al fondo, cose di questo genere. Oppure previous che è controllo di next. Casi particolari possono servire ma normalmente questo while next ci basta. E l'altra cosa è che questi vari metodi getString, getDate, getInt, eccetera, se andate sulla pagina di documentazione vi fa l'elenco completo, ce n'è un'enormità, devono essere compatibili col tipo di dato sottostante. Quindi noi avevamo una data di tipo, una name, una località che era una stringa, una varchar in SQL e l'abbiamo letta con getString. Avevamo un numero che era un intero, saltava fuori da un count e l'abbiamo letta come getInt. Questa è la tabella di conversioni lecite tra tipi di dato in SQL e tipi di dato Java in cui li posso leggere. Normalmente è abbastanza logica, nel senso che se ho un double lo posso convertire come double. In realtà lo potrei anche convertire come integer, ovviamente viene troncato, potrei anche metterlo come string, se fossi pazzo, perché poi dopo cosa me ne faccio di un double dentro una stringa, devo passificarla. Quindi cerchiamo di fare noi già subito il mapping sul tipo di dati più opportuno. L'unica cosa che si nota è che string c'è sempre, posso sempre leggere un qualunque dato sotto forma di stringa. Se però lo leggo sotto forma di oggetto più specifico ovviamente sarà più semplice da gestire più avanti. Allora questo è il primo giro. Ci manca ancora un po' di dettaglio, dobbiamo capire come fare le query che contengono dei parametri, dobbiamo capire come integrare queste cose all'interno della nostra applicazione JavaFX. Allora questo lo facciamo nella seconda ora andando a prendere il libretto scolastico della volta scorsa e agganciarlo nel database anziché renderlo disponibile come liste. Vi lascio riprendere un po' di fiato, facciamo un po' di intervallo e dopo facciamo quell'esercizio. Grazie. 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 Grazie.